un saluto a tutti voi io sono paolo ciao e benvenuti anche oggi a l'italiano in podcast benvenuti a un nuovo episodio questa è la puntata numero 380 di mercoledì 15 dicembre 2021 ieri vi ho spiegato questo piccolo cambiamento al mio modo di registrare i nuovi episodi quindi adesso vado a dormire un po più presto e mi sveglio un po più presto per registrare un nuovo episodio quindi adesso in realtà è il 16 dicembre sono circa le 6 del mattino funziona bene perché dormo di più circa 6 ore ogni notte e penso che il podcast sia un po meglio in realtà non registro un episodio molto più tardi di prima perché negli ultimi tempi finivo di registrare questo il nuovo episodio più o meno alle due all'uno e mezza di notte quindi non cambia molto in realtà cambia però forse la qualità sono un po più attivo e mi diverto un po di più a fare la registrazione quindi credo che la qualità sia migliorata per tutti quelli che non mi ascolta che mi ascoltano per la prima volta prima registravo il mio podcast prima di andare a dormire la sera e spesso fino a notte tarda cioè fino a molto tardi adesso quindi ho cambiato da qualche settimana da un paio di settimane non di più e la registrazione del podcast avviene appunto come ho detto all'inizio del giorno del giorno successivo ma le cose che vi racconto sono successe solo poche ore fa quindi in realtà non c'è molta differenza comunque la cosa importante è che siamo qui per un nuovo esercizio di ascolto e comprensione della lingua italiana l'italiano in podcast è questo è un esercizio spero piacevole per tutti voi per cercare di migliorare queste queste importanti capacità quella di ascoltare e riuscire a comprendere un madrelingua che parla in italiano e quindi anche oggi ci metto la mia parte di impegno ci metto questi 30 minuti circa la durata di una puntata ma voi dovete metterci l'impegno so che studiate molto e sono sicuro che ogni giorno quando mi ascoltate mettete molto impegno anche in questo lavoro spero solo di renderlo scusate di rendere il vostro lavoro più facile con qualcosa di interessante da sentire da ascoltare questa è la mia speranza beh quindi anche oggi vi parlerò vi farò compagnia per qualche minuto vi parlerò un po della mia giornata e poi vi racconterò qualche notizia dall'italia ma oggi vi avverto subito siamo tornati a un'epoca in cui praticamente tutti i giornali tutti i siti di informazione sono assolutamente dominati da sua maestà covid 19 purtroppo per me e per voi e per tutto il mondo il nuovo il protagonista è di nuovo questo virus che ritorna anche in questo natale in questo periodo di di feste a rovinarci la festa appunto rovinare la festa qualcuno significa insomma disturbare un un periodo buono o piacevole agli altri o in generale semplicemente creare problemi agli altri il covid 19 rovina la nostra festa da ormai troppo tempo però purtroppo questo è quello che accade e di questo dobbiamo anche parlare qualche volta ho parlato anche di questo insomma di questo fatto il mio podcast con tutti questi episodi ogni giorno o almeno cinque sei giorni a settimana è per me anche una specie di di diario di diario di diario di quest'epoca ho iniziato il primo settembre del 2020 e non nella fase più acuta di questa di questa tragedia mondiale ma sicuramente ci sono ci sono 380 episodi che parlano della vita quotidiana mia personale e anche di del paese e anche a volte un po del mondo quindi questo podcast in futuro per me rappresenterà anche un po un diario di quest'epoca e mi dispiace riascoltare mi dispiacerà riascoltare nel futuro queste giornate piene solamente di questo di questo virus ma fanno parte anche queste giornate della nostra epoca bene basta con le introduzioni a questo punto il mio invito è sempre il solito prima di iniziare a raccontarvi la mia giornata mi invito a mettervi comodi cercare un posto dove siete più tranquilli magari lontano da qualche rompiscatole qualche persona che vi disturba lontani da altri rumori e pronti a sintonizzare le vostre orecchie sulla sulla mia voce e su quello che vi voglio raccontare quindi aprite bene le orecchie cercate di abituare il vostro dito alla mia voce e niente tenetevi pronti all'inizio di questo nuovo racconto e cercate come sempre di acchiappare più italiano possibile quindi di provare a aggiungere al vostro vocabolario le nuove parole le nuove espressioni che ascoltate però soprattutto cercate di capire quello che io dico le cose di cui vi parlo e se sfugge qualche piccola qualche piccolo vocabolo nuovo o anche vecchio che non capite bene non vi preoccupate non è troppo grave non vi distraete dalla dall'esercizio più importante quindi il mio consiglio è ascoltate almeno la prima volta senza interrompere e poi dopo forse tornate su qualche punto che non avete capito bene ma dico sempre anche un'altra cosa ognuno ha il suo metodo io non sono molto convinto come altri che esista un metodo che funzioni per tutti quindi il mio consiglio principale forse è proprio questo trovate la vostra la vostra strada il vostro metodo di ascolto e di e di fare questo tipo di esercizio basta così partiamo siete pronti sì quindi iniziamo con il racconto della mia giornata che non è stata piena di tantissime cose ma ancora un'ottima giornata da quando mi alzo più presto sento una maggiore capacità di concentrazione e anche di una maggiore capacità di fare più cose questa è la cosa che mi piace molto è ritornata un po' in me questa possibilità questa capacità di fare davvero molte cose anche piccole a volte durante la giornata ma molte cose diverse quindi questo è qualcosa che mi piace anche la quantità di tempo di cui ho bisogno per fare le cose torna ad essere molto piccola come in passato quindi sono contento di questa parte non posso dire di aver raggiunto la produttività di quell'anno di prigione in cui abbiamo vissuto ma sicuramente è tornata molta energia come in quell'epoca quindi sveglia presto come ho detto il podcast questa è la seconda cosa che faccio la prima è un po' leggere qua e là qualche notizia cercare forse l'aforisma se non ne ho uno pronto leggere qualche email controllare qualche dato sul podcast sul blog insomma un piccolo una piccola attività di ricerca e di controllo semplicemente per mettere in moto per accendere un po' meglio il cervello anche se devo dire che quasi da subito da appena sveglio è immediatamente pronto e attivo e questa è un'altra buona cosa merito del sonno questa notte ho dormito sì poco meno di 6 ore 5 ore e 50 minuti circa che per me è un tempo molto buono è un tempo sufficiente a ricaricare le batterie ma dopo il podcast come sempre sono uscito abbastanza presto prima delle 8 un po' prima delle 8 per una breve passeggiata non troppo lunga e per la colazione come sempre ritorno a casa con altre piccole piccole commissioni qualcosa di non troppo complicato che ogni giorno faccio come tutti voi anche io ovviamente ho delle cose in casa da sistemare da mettere in ordine qualche mail a corrispondere e poi sono uscito di nuovo per una passeggiata più lunga la mia prima lezione era alle 10 e 30 del mattino questo mi ha dato la possibilità di fare un'altra bella passeggiata con questo sole di questi giorni è davvero fantastico credetemi ho passeggiato sulla spiaggia sono ritornato sulla strada sul lungomare il mercoledì nella mia città è un giorno in cui c'è il mercato rionale probabilmente molti di voi conoscono questa questa abitudine italiana ogni città ogni paesino ha un giorno in cui ci sono c'è questo mercato rionale in cui si può trovare un po' di tutto le persone che vendono qui sono chiamati ambulanti sono è un tipo di negozio di attività che si fa con dei piccoli furgoncini quindi con delle piccoli camion a volte che ovviamente si spostano da città a città questi negozi sono presenti in molte città della zona quindi ogni città ha un giorno diverso queste persone si spostano da una città all'altra per tutta la settimana c'è la possibilità anche di trovare prodotti locali di contadini direttamente di contadini quindi direttamente comprati da contadini e anche attività come quelle della pesca ci sono pescatori del posto che possono vendere il loro pesce questo lo fanno anche negli altri giorni ma durante il giorno del mercato ovviamente si riuniscono in questo posto che in genere è una piazza molto grande come nel caso della mia città il mercato orionale si svolge si fa in una zona vicino al mare che normalmente è un grande parcheggio proprio di fronte al mare quando ci sono molti venditori si usa anche una parte del lungomare che viene chiusa per le auto in cui è possibile passeggiare solo a piedi in questi giorni ma in realtà forse da sempre a dire la verità in un luogo come questo che è molto affollato è necessario utilizzare la mascherina anche all'aperto e quindi anche io ovviamente quando sono passato in mezzo a questa folla perché c'è folla in questi posti c'è folla è forse uno dei posti più affollati in questo periodo non ci sono discoteche mi pare non si possono fare feste all'aperto ma il mercato orionale da molto tempo non viene più chiuso non so cosa succederà in questi giorni di grande contagio ma una cosa è sicura da molto tempo il mercato orionale c'è sempre l'unica l'unica cosa è che bisogna fare è all'aperto è tenere la mascherina e ovviamente provare a mantenere una distanza sociale ma vi assicuro che in questo posto non si mantiene questo è poco ma sicuro quindi in realtà questo è uno dei posti forse più pericolosi per il contagio ma nessuna regola particolare viene stabilita e questo è un po' strano a volte per me perché non è molto diverso da fare una piccola festa all'aperto secondo me certamente una festa a più rischi è vero ma in realtà questi mercati rionali sono un punto critico un punto debole della politica di prevenzione insomma di queste regole per cercare di frenare il contagio credo che sia sì uno dei posti un po' più tra virgolette pericolosi in cui si rischia di prendere il virus ma comunque è anche molto carino insomma vedere questa grande numero di persone riunite con le voci i rumori insomma a molte persone piace questo questa questa idea insomma di conservare questi mercatini soprattutto a Natale ovviamente tra l'altro sul mio lungomare in questi giorni sono comparsi anche dei piccoli delle piccole casette di legno che da qualche anno ci sono sempre proprio per ospitare un piccolo mercatino di Natale lungo proprio la strada davanti al mare insomma sono piccole casette in legno tutte uguali che alcuni commercianti alcuni negozi affittano per vendere cose in questo periodo nelle sere di Natale le luci sono tutte pronte ci sono alcune piccole sculture illuminate come in molte città non è una cosa così uno spettacolo troppo incredibile ma comunque anche la mia città è un po' più carina durante questo periodo di feste lungo la strada principale c'è ovviamente un'illuminazione pubblica con un disegno natalizio insomma con delle luci di Natale e questo è ovviamente organizzato dalla città dal comune comunque ieri mattina quindi ho fatto questa bella passeggiata sono tornato a casa passando vicino al mercato anche se io a dire la verità non amo molto e non vado praticamente mai in questo posto per cercare o per fare acquisti ma è comunque un luogo molto vivo in cui è piacevole passeggiare a volte a ritorno a casa la mia prima lezione che è stata la prima appunto di una serie di quattro lezioni e mi ha tenuto che mi hanno tenuto impegnato più o meno fino alle cinque del pomeriggio con qualche pausa ovviamente per mangiare per fare piccole cose anche se devo dire non ho non ho creato nessun nuovo contenuto oggi volevo volevo fare qualche cosa di questo tipo ma mi sono dedicato invece di più a sistemare piccole cose piccole cose che riguardano il blog in particolare semplicemente qualche ricerca qualche piccolo cambiamento tecnico ho fatto qualche piccolo aggiustamento e poi qualche email ho iniziato a scrivere ad alcune persone che fanno più o meno quello che faccio io per chiedere a loro se ecco questa è una questa è una delle mie notifiche non vi spaventate non la cancello così sapete qual è il suono delle notifiche del mio calendario come dicevo mi sono occupato di mandare alcune email a queste persone per proporre a loro di fare qualche collaborazione soprattutto con il mio podcast ho scritto a due o tre persone non tutte e aspetto una risposta da loro è un periodo di festa quindi non mi aspetto di iniziare subito questo ma forse proprio con più tempo a disposizione c'è la possibilità di almeno parlare con loro scambiare qualche messaggio forse un piccolo incontro in videochiamata ma insomma l'idea è che nei prossimi giorni molti di noi forse faranno una piccola pausa per alcune attività e quindi forse è un buon momento per pensare a queste cose con calma spero che spero di trovare le molte o meno la maggior parte di queste persone disponibili a a fare qualche piccola collaborazione ma ovviamente questo lo scoprirete in futuro ho anche sistemato alcune altre piccole cose come ho aggiunto una lezione da 45 minuti sul mio blog ho già detto nei giorni scorsi che da qualche da domenica è possibile per tutte le persone che vogliono conoscermi e lavorare con me come usare la mia esperienza come tutor per migliorare la conversazione in italiano da adesso è possibile da domenica prenotare sul blog delle lezioni con me c'è una lezione di prova di 20 minuti per conoscerci per capire se possiamo lavorare insieme per presentarmi anche a voi poi ci sono tre tipi di lezioni da 30 ieri ho aggiunto una lezione da 45 minuti e poi da 60 minuti la durata ovviamente di una lezione dipende solo dalle vostre esigenze e dalle vostre necessità per questo motivo io ho cercato di dare più possibilità proprio per ogni tipo di esigenza ecco quindi c'è questa nuova lezione poi ho probabilmente aggiungerò anzi ho già preparato anche una piccola versione inglese di queste lezioni insomma della descrizione delle lezioni e poi ho anche contattato anche se per poco la mia disegnatrice preferita che è un po' in ritardo sui tempi ma dovrebbe consegnarmi aggiorni un nuovo lavoro che spero di poter utilizzare per qualche nuova maglietta anche se ormai è un po' tardi per il Natale speravo di aggiungere qualche disegno nuovo e una maglietta nuova o alcune magliette nuove proprio per il periodo di Natale ma mi sembra ormai un po' tardi quindi sicuramente non non è una buona idea regalo per quest'anno perché quando ci saranno queste nuove magliette con il nuovo disegno sarà un po' tardi per regalarle a qualcuno purtroppo è andata così ma a volte non è facile insomma questo tipo di lavoro più creativo richiede un po' più tempo ma anche se non potete utilizzare queste magliette come regalo di Natale vi ricordo che questo è uno dei modi che ho messo a disposizione per le persone che vogliono supportare il mio progetto quindi l'acquisto di una maglietta ovviamente contribuisce economicamente all'esistenza di I Speak Italiano e del suo podcast L'Italiano in Podcast questo è uno dei modi un altro modo è quello di utilizzare Buy Me A Coffee ci sono sul mio blog sui miei social i link per fare questo se avete voglia di offrire un caffè al blog o al podcast ovviamente io il blog e il podcast vi ringraziamo e siamo anche felici felici perché questo vuol dire che il nostro lavoro è utile ed è apprezzato dalle altre persone e devo dire che sono felice dei risultati del podcast esamino quotidianamente il numero di ascolti e sono abbastanza non abbastanza sono molto soddisfatto di queste ultime settimane quindi grazie a tutti voi ma come dicevo ieri dopo due giorni lunedì e martedì direi produttivi molto produttivi per il blog ieri ho rallentato un po' ci sono delle cose che devo finire ma credo che questa settimana sia stata molto buona e ieri ho un po' rallentato per rilassarmi di più dopo l'ultima lezione e dopo qualche dopo un po' di lavoro come vi ho raccontato ho deciso di uscire per qualche acquisto di cui avevo bisogno come per esempio cibo per gatti per impedire alle belve feroci di morire di fame alle mie piccole belve feroci di morire di fame faceva molto freddo almeno secondo me è un po' strano perché poi in realtà dopo un po' di tempo fuori mi sono abituato e non ho sentito più freddo ho avuto anche il tempo per ordinare una bella pizza diavola per la cena ma ho chiesto la pizza per le 8 di sera e ho approfittato per una bella passeggiata serale e anche di sera devo dire con le luci accese il lungomare della mia città è diventato abbastanza piacevole quest'anno ho notato la presenza di una pista di pattinaggio sul ghiaccio è stata costruita beh non costruita è stata allestita questa è la parola più giusta allestire quando qualcosa non si costruisce ma si come dire prepara perché una pista di pattinaggio ha bisogno solo del ghiaccio forse e di altre cose intorno ma questa pista è stata allestita in una in un piccolo campo pubblico da pallacanestro dove i ragazzi di solito giocano per il natale è stato dato questo spazio a questa piccola attività questa piccola pista di ghiaccio dove è possibile divertirsi un po' con i pattini mi piacerebbe provare ma il pattinaggio è un'attività un po' pericolosa per il mio ginocchio e non vado sui pattini da molti anni ero abbastanza bravo ma direi che è meglio non rischiare di di farmi male cadendo in modo un po' insomma un po' sbagliato ho un po' paura di questo solo di questo ma chi lo sa forse in futuro ci riproverò ancora vedremo bene ovviamente alle 8 sono rientrato a casa passando dalla mia pizzeria da asporto preferita mi sono gustato la mia bella pizza e poi come ultima cosa prima di andare a dormire alle 10 più o meno una lezione di inglese ho ricominciato gli incontri con la mia tutor di inglese e proprio come voi ho ho fatto la mia ora da studente capisco bene come vi sentite quando dovete fare conversazione è andata abbastanza bene credo che sia stata una buona lezione anche se non ci vedevamo da più di un mese mi pare e adesso ci rivedremo dopo le vacanze quindi ci siamo fatti gli auguri e ricominceremo a lavorare l'anno prossimo dopo le vacanze questa è la mia giornata dopo semplicemente piccole cose prima di andare a letto e godermi le mie quasi 6 ore di sonno una buona giornata una bella giornata che mi mi ha fatto anche riposare un po' tutto qui per quanto riguarda me passiamo come sempre alle notizie dall'Italia beh mi ho già anticipato che qui il giornale è un disastro i giornali sono un disastro si parla solo di covid la prima notizia è questo problema con l'Europa l'Europa non è contenta delle nostre nuove regole perché anche per le persone vaccinate quindi aggiungo questa informazione anche le persone vaccinate che arrivano dalla comunità europea devono fare un test per per entrare in Italia quelle non vaccinate addirittura devono fare una quarantena non la devono fare i bambini tra i 5 e gli 11 anni ma questo è un po' inutile perché se i genitori sono in quarantena i bambini probabilmente sono automaticamente in quarantena però queste sono le regole l'Europa non è contenta ma Draghi ha risposto signori il covid la variante omicron in molti paesi d'Europa diventa un problema da noi ancora non lo è non c'è molto da rispondere insomma questa è una buona motivazione per mettere regole più severe vedremo cosa accadrà durante gli incontri di questi giorni ma intanto quello che posso dirvi sicuramente è che Roma ha cancellato la sua festa all'aperto al Circo Massimo in questo grande spazio che si usa per gli eventi di solito e persino la finale di Miss Italia questo programma che elegge la più bella d'Italia anche Miss Italia è stata rimandata la finale è stata rinviata ma non so a quale data perché ci sono stati problemi di contagi all'interno insomma della manifestazione quindi tutto rimandato tutto annullato ancora una volta perché perché in queste ultime 24 ore per esempio 23.000 195 persone sono positive sono state positive ai test sono risultate positive ai test ci sono più di 300.000 positivi adesso in Italia il tasso di positività è al 3,6% ieri era il 2,7 aumentano i ricoveri in ospedale aumenta il numero di persone in terapia intensiva questo importante reparto in cui ci sono le persone che hanno bisogno di cure più importanti quindi questa è una priorità non affollare questi reparti di terapia intensiva insomma la situazione peggiora ovviamente e causa i problemi di cui vi ho parlato cancellazioni annullamenti ma in generale sono convinto che passeremo ancora un periodo di feste non normale quindi senza feste in realtà senza feste all'aperto senza grandi eventi probabilmente potremo stare in famiglia e poco di più speriamo che io mi sbagli ma la mia sensazione è questa il vaccino ovviamente continua ad essere somministrato insomma continuano le dosi di richiamo continua ad aumentare lentamente il numero di persone che completano il ciclo vaccinale ma sembra che contro questo nuovo omicron ci sia bisogno di misure diciamo di regole di emergenza che diminuiscono come sempre la possibilità di fare cose insieme agli altri purtroppo unica buona notizia con cui vi voglio lasciare oggi chiudo non con il bollettino ma con una notizia di cinema è questo questa buona questa diciamo con questo buon effetto che ha fatto il film di Sorrentino anche negli Stati Uniti il New York Times ha definito il regista un estetizzatore ha trovato il suo film Mano di Dio La Mano di Dio un film sublime e quindi questo mi fa piacere intanto adesso è disponibile sulle piattaforme di streaming più famose quelle che uso io almeno quindi credo proprio che nei prossimi giorni sceglierò un momento più tranquillo e finalmente guarderò questo film che aspetto da un po' spero che mi piaccia ovviamente e spero che sia un tempo piacevole guardare quest'ultimo lavoro di Paolo Sorrentino con questo è tutto non aggiungo nient'altro un podcast un po' lungo a dire la verità oggi vi lascio con l'aforisma come sempre la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire questa è la frase di un personaggio importante della cultura italiana vi invito a scoprire l'autrice o l'autore di questo nuovo aforisma e con questo aforisma direi che possiamo salutarci quindi anche oggi vi ringrazio per avermi ascoltato spero di aver fatto un buon lavoro spero che questo esercizio sia piacevole e utile e spero che domani voi torniate ad ascoltare un nuovo episodio vi ringrazio vi saluto e ciao a tutti